Andiamo a Borgo Bislacco! Scusa! Dov'è Borgo? Scusa! Scusa, dov'è Borgo Bislacco? Borgo Bislacco, scusa Borgo Bislacco, a mia mamma gentile, scusa dov'è Borgo Bislacco? Il ragazzino forse gioca a Fortnite, tu sai dove Borgo Bislacco, si sto cercando Borgo Bislacco, quella foto? Eh no, Nabbo! È mio questo! Cosa? Volevi fottermi il fortino? Vuoi fottere il fortino hai detto? No, il cestino devo pulirlo! Eh appunto, il mio fortino! Perché vuoi pulire il fortino? Perché è sporco! Ma l'ho già pulito io! Gli indiani, poi arrivano gli indiani e ti combino una macchiella, oh non sparare! Ma sono scarsi a Fortnite! Capitati che sono bel, bel ferrodi! Anche le munizioni avevo! Non lo sparo! Non lo sparo! Non lo sparo! Non lo sparo! Eh no, perché ho capito che sei squadra con me! No! Altrimenti eri già a terra eri! Ok, se trovo qualcos'altro poi te lo passo, ok? Va bene! Vediamo questo qua! Questo magari ti fa, non lo so, come scudo, prova come scudo, prova! Vediamo, provo a sparare, vediamo! Grande! Io vado al centro da Napola, ti aspetto lì! Ti aspetto lì! Se trovo gli indiani non chiamo niente! Se trovo gli indiani? Ma no, gli faccio un headshot, capito? No, no che è headshot, chiamami! Ti chiamo? Ok! Ciao grande! Ciao! Era uno scherzo su un videogioco! Una che è di camera, vai da dove? Vedi lì! Vedi lì! Vedi lì! Vedi lì! Ahia! Ah! Sono caduto male dall'Airbus! Dall'Airbus? Eh! Perché non ho... Non mi si è aperto il paracadute! Avete mica una benda o qualcosa? Un cerotto, un fazzoletto, una cura? Non avete niente per curarmi? E' porca miseria! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Cazzo là là! Forse ho... Nell'inventare una benda! Ah si ce l'ho! Ce l'ho! Ah ok! Perfetto! Ora sto bene! Ci vediamo poi dove ci sono i caddy! L'ho detto anche all'altro! Andiamo a vincere questa partita! Vai! Andiamo a vincere questa partita! Ma... Ma perché non c'è il piccone? E' un bug! Che gioco bug! Che gioco bugato! E vabbè! Vado correndo e basta! Scusate! E' mica vostra questa bibita scudo! Qualcuno l'ha lasciata lì magari del vostro gruppo! Posso prenderla io? Io prendo per me! Non è vostra! No no! Posso... Quindi mille per mille non è vostra questa! Venga questo! Ma non spari eh! Perché siamo nemici! No no! L'energia sta entrando! Abilizzate i vostri colleghi! Infatti vede qua! 100! 100! Prova a spararmi! Mi spari! Vai! Vai! Ah! Hai visto? Sono ancora vivo! Però ho sprecato la... Ho sprecato lo scudo! Pensavi che ti risparmiassi eh! Cosa? Ah! Non state giocando a Fortnite! No! Scusa! Mi son preso malissimo! Pensavo avesse... Il guanto di Thanos! Non lo conoscesse! No! Sono i bug dei server questi! Ho visto il guanto di Thanos! Ho detto! Madonna! Io perdo! No! Invece era un pallone! Scusa! Che volte i server di Fortnite, FIFA! Sbaggano! Scusami! Grande! Cosa? Andiamo nella safe! Io non ho armi! Solo questo! Vai! Nella safe! Vai! Dove c'è il muretto! Vai! 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 Veloce! Veloce! Cazzo! Non c'ho niente di vita! Vai! Ok! Grazie! Prendo un po' di materiale! Grandissimo! Grazie! Cosa? Sto cercando dov'è la mappa! Che mappa? Tengo un attimo! Mi serve! Caccia il tesoro! Sì! Sto cercando dov'è... Tomato Town! Come si squadra con me! Tomato Town! Ma lo trovi su questo giornale qua! Ok! C'è... Qua c'è una mappa! A... Atene! Ma questa è Atene! Posso prendere la pagina? Sì! Grazie mille perché... So che là stanno scendendo tutti dall'Airbus! Capito! Faccio un botto di kill! Anche se con la falce! Capito! Io la do! Proprio così! Testa! Grazie mille! Poi ci vediamo dove! Viene anche tu a Tomato Town! Grandissimo! Era una candy camera sul videogioco! Come? Era una candy camera sul videogioco! E mi aspettava una reazione... Tipo ammazzata a... E là era... La telecamera! Sì! E' stata una sorpresa! Però poi mi ha fatto anche un po' sorridere! Grandissimo! Ciao! Nella safe zone! Nella safe! Nella safe! Dobbiamo andare nella safe zone! Ehi! 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 Ti sembra normale! Ti hai fatto qualcosa? Fai pure il furbo fai! Io ti ho visto là che parlavi col tuo amico e mica ti ho sparato! Scusami eh! Oh! Ti sei fatto qualcosa? Come no? Dillo al tuo amico online che sta glicciando! Diggielo! Headshot! Ehi! No! Sono... Comunque hai fatto una buona partita! Ti ho visto là che esultavi così prima no? Così esulta questo da solo senza che... Che ha vinto! E' così che si fanno le vittorie reali! Non come fai tu! Sti nabbi che giocano! Quindi hai imparato la lezione! Mai esultare... Prima di aver fatto una vittoria! No! Per fare gli addominali bassi! Ti serve fare così! Eh! Ma tu stavi esultando! Cioè! Addominali bassi! Mi favori questa parte qui! Ah! Io invece faccio... Io faccio i fianchi no? Di solito dopo che faccio tutto bene... Faccio i fianchi così! Era una candid! Pensavo... Era la... Io pensavo... Tipo mi lanciassi una frustata... A mo' di Tarzan!